Un grande annore per voi di Telesin Tarcobaleno, direi qui un giornalista del tuo canale. Non esageriamo. Sì, veramente, la benissima la ti accorto, è una grande cariore che penso abbia sentito. Assolutamente, sono molto contento di venire. La tematica della violenza sulle donne, per voi viene occupata di stampa e di media, è molto sentita, vero? E avete visto poi in questi anni, tu hai avuto una carriera alle spalle, anche molto variegata, avete visto un grande cambiamento nel modo di percepire e di raccontare le storie di violenza. Sì, la concepavolezza del fenomeno è molto cresciuta nei giornalisti, nella stampa, nei media. Prima anche noi la trattavamo come un fenomeno quasi folcloristico, facendo un errore madornale. Piano piano mi sembra che anche, diciamo, in virtù e per merito di tanto associazionismo, di gente che ha dedicato vita, mestiere, idee, passione a portare su proscegno questo fenomeno, anche noi giornalisti abbiamo cominciato a rifletterci meglio, a cambiare il nostro linguaggio, ad adeguarlo alla realtà di questi fenomeni che non sono fenomeni, diciamo, di un altro mondo, sono fenomeni del nostro mondo e come tali vanno trattati anche con il linguaggio, utilizzando un linguaggio di tutti i giorni anche per situazioni che ci feriscono, che ci fanno male, che ci ripugnano, eppure sono questioni che sono del nostro pianerotto, della nostra divimpettaia, del nostro vicino di casa, magari di una parte della nostra famiglia. Dobbiamo avere il coraggio di riconoscerle come fatti, orribili, ma fatti di tutto il giorno, e nominarli con le parole che usiamo tutti i giorni. Anche la stessa questione del femminicidio, questa parola un po' spuria, secondo me esilia il fenomeno in una zona, come dire, legalistica, che non ci fa percepire esattamente, diciamo, l'ampiezza e la vicinanza del fenomeno. È una brutta parola per una brutta storia, però forse dovremmo abituarci a utilizzare parole più semplici, più vere, più consuete, per trattare un argomento vero e consueto. Bene. Abbiamo qui il direttore di Telesettacobaleno, Antonio Volpe. Noi abbiamo una televisione su YouTube, un canale su YouTube, quindi abbiamo la fotografia di una piccola realtà, che è quella locale. Però anche noi siamo molto sensibili alla cronaca, vero Antonio? Certo, noi anzi addirittura abbiamo una rubrica fissa a cura dell'avvocato Luigi Alfano, che si è occupato di diverse tematiche legate alla violenza sui minori, sulle donne, alla violenza in genere. Stasera presenteremo, nell'ambito della manifestazione organizzata dalla Mammaia Centro, proprio un documentario che racconta una triste vicenda che ha coinvolto proprio una ragazza di Vichequense, e quindi è conclusa fortunatamente con un processo che ha condannato il genitore e il padrigno a 12 anni di galera e che, diciamo, comunque è rappresentato per questa comunità locale, per la penisola sorrentina, un momento di riflessione, di autoconsapevolezza, di un fenomeno sommerso presente anche qui, nella ridente penisola sorrentina. Quindi come Tele Street siamo sempre pronti a registrare anche questi eventi. Dunque il messaggio di voi giornalisti è che nel piccolo, come sullo scacchiere nazionale, internazionale, come quello di cui si occupa Giancarlo, è sempre importante esserci e segnalare, perché l'informazione nasce nella coscienza sociale e la ripeterebbe al riscatto. Grazie a voi.